e stasera sono molto contenta perché ho l'onore di avere qui accanto a me una ragazza non solo bellissima e giovanissima ma destinata a diventare una nuova grande star della televisione attuale e mercedes engher sinceramente allora io non ero nemmeno sicura se la prima puntata ci sarebbe stato un'eliminazione o meno in questa isola un grande parlare di questa presunta love story sembra mai sbocciata tra mercedes e jonathan grazie a tutti